Il guanto di sfida è lanciato da Lecce, detassare i redditi da lavoro per dare una boccata d'ossigeno specie alla classe media. La CISL fa di questo il suo mantra e lo rimarca durante il 18esimo congresso nazionale della FIM, la Federazione Italiana Metal Meccanici, che da tre giorni presidia l'Hotel Tiziano. Abbiamo bisogno di una sola cosa, che gli investitori italiani e esteri vedano in Lecce, nella Puglia, nel Meridione e in Italia un luogo sicuro per i loro investimenti. Non si fa occupazione per decreto. E a Bonanni che ha lanciato l'appello il presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, non ci serve la straordinarietà, ha detto il numero uno di Palazzo dei Celestini, ci serve ancora l'ordinario per far uscire questo territorio dall'isolamento. Che ne farete di questo appello? E' un ulteriore appello che io sento, che è un elemento che mi incoraggia e incoraggia gli altri a muoversi in questa direzione. La CISL, lo sapete, è vocata alla cooperazione e alla collaborazione, proprio perché pensa che i miracoli nessuno li fa. Il tema centrale che ha chiamato raccolta nel Salento le tute blu di tutta Italia resta lo stesso, industriarsi per il lavoro. Ma parlare di settore metalmeccanico qui fa sì che non si possa prescindere dalla vicenda onfesa, dal suo fallimento, sul quale hanno iniziato ad addensarsi le ombre di cessioni societarie sorprendentemente a ribasso e di un impoverimento delle commesse di Trenitalia che da qui sono migrate in altre parti del paese. Le ferrovie dello Stato debbano riprendere a fare gli investimenti e così come le ferrovie dello Stato tutte le grandi utility devono essere messe in condizioni di poter reinvestire.